La razza è un sogno da bambino e quello che ancora oggi mi provoca gli stessi grigli. La Lazio è un sogno in continua evoluzione. La Lazio è libertà. È una poesia che non conosce tempo. Il capolavoro che tutti, senza alcuna distinzione, possono godersi. È il mezzo di trasmissione più magica. Ciò che ti unisce con un padre, un figlio, un fratello, un amico o un apparente sconosciuto. La Lazio è il mondo dove non esistono età e diversità, dove ti dimentichi dei problemi quotidiani e tutti sono immortali. Chi sogna lotta, chi sogna è libero, chi sogna vive. Ricorda sempre che solo tu puoi permettere a qualcuno di impadronirsi dei tuoi sogni più preziosi. Non sarà mai un potere avverso, un rivale, un gestore o un calciatore a poter arrestare il tuo sogno chiamato Lazio. Perché è il tuo sogno ed è anche il mio. Che permette a tanti come noi di continuare a sognare, divertirsi ed emozionarsi. L'amore vero rende figli dello stesso sentimento. Quindi ogni volta che lo vorrai e ne sentirai bisogno, saprai dove provare e dove votare. Perché ora e per sempre i naziali sono qua. Fine della partita, sono le 17.45 e il 12 maggio. Lazio che è battuto in forza, finitura il suo rigore, è campione d'Italia. Da tutti i settori del campo, obergo adesso il centro, i tifosi che hanno atteso per mesi. Niente, questi scaldi con lì, la bichetta con l'uso e con l'uso. Sono le 18 e 4 minuti, nel 14 maggio del 2000. Ma adesso è più un'unica. Tizia, 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 Tizia. I naziali sono qua. I naziali sono qua ragazzi, sul palco abbiamo il capitano della Nazio dello Studente.